Questi sono i biglietti, la nostra destinazione è Zante e altre tappe a sorpresa che neanche noi conosciamo adesso Stiamo entrando nella nave Stiamo costeggiando la Puglia, stiamo per arrivare nel canale d'Otranto dove dalla nave vedremo il faro di Punta Palascia che è il punto più a est Italia e andremo in direzione Corfu La Grimaldi Corfu dispone di due cabine suite, ampie e confortevoli, questa è intitolata Vasco de Gama Ho l'enorme privilegio di essere a prua su questa Grimaldi Corfu Siamo su una delle navi più importanti della flotta Grimaldi, lunga 180 metri e larga 24 nel suo punto massimo che corrisponde alla prua Siamo ancora a bordo, alle mie spalle c'è Corfu e davanti Ibu Meninsa, stiamo per attraccare E' incredibile come ad ogni curva si aprono scenari di natura incontaminata, rigogliosissima e baie con questo mare dal blu cobalto Stiamo per attraversare il Golfo di Corinto e barcare il ponte strallato più lungo del mondo Il ponte Rion-Antirion attraversa il Golfo di Corinto tra le città di Rion nel Peloponneso e Antirion nella Grecia continentale Con la sua lunghezza di 2883 metri rappresenta il ponte strallato più lungo del mondo Si regge su soli quattro piloni e dal piano stradale si domina il panorama a 60 metri sul livello del mare La sua costruzione ha ridotto a 5 minuti il tempo per passare da una riva all'altra contro i 45 minuti impiegati con il traghetto Ed è proprio per la sua imponenza che questo ponte è soprannominato il ponte di Poseidona Siamo arrivati a Zante, porto di Zante Cosa ci regalerà quest'isola greca? In questi giorni di viaggio a Zante sono ospite del Galaxy Hotel Beach Resort Un 5 stelle situato sulla Baia di Laganas, la località più turistica di Zante dove si stende la spiaggia più bella e più estesa del versante ionico dell'isola L'hotel offre una vista panoramica magnifica e l'ho scelto come base ideale per i miei itinerari alla scoperta dell'isola Il Galaxy Hotel Beach Resort è circondato da giardini rigogliosi e curatissimi che conducono alla spiaggia sabbiosa e a un mare cristallino Raggiungo la mia stanza situata ai piani superiori dell'hotel La proprietà mi ha riservato una camera ampia, luminosa, con arredi minimali di design contemporaneo e un grande balcone privato con affaccio su palme sontuose e sul mare all'orizzonte Stasera cena al bistrò del Galaxy Hotel Beach Resort di Laganas che mi sta ospitando in questi giorni di viaggio alla scoperta di Zante A Zante si sta in pura vita! Ciao Sabrina! Buon vento! Ci stiamo imbarcando con Traventure Travel E stiamo partendo dal molo di fronte all'isola detta Cameo E accanto abbiamo la famosa tartaruga marina nell'acqua Ciao Sabrina, benvenuti a Zakinthos Mi chiamo Paul, da Traventure e vi faccio vedere tutti i miei paesi qui in Zakinthos Quindi, buon vento! So, welcome to Marathonisi Island, also famous as Turtle Island Quest'isola ha varie caratteristiche La più importante è quella di avere la forma di una tartaruga con la testa da un lato e il corpo, il carapace dall'altro E poi c'è un'altra caratteristica Quest'isola è il sito di nidificazione prediletto dalle tartarughe caretta caretta Le gabbiette di legno colorate indicano proprio i siti dove le tartarughe caretta caretta hanno deposto le uova e sicuramente deve essere uno spettacolo incredibile assistere alla schiusa di questi gusci e alla discesa in acqua di queste magnifiche tartarughe Da Marathonisi, che ogni abitante di Zante conosce come Turtle Island salpiamo in direzione sud ovest di Zante diretti verso le grotte di Cary che prendono il nome dalla penisola su cui si aprono famose anche come Cary Caves A ogni milio nautico lo sguardo è rapito da una sequenza di caverne spettacolari raggiungibili solo via mare e l'imponente frastaglio roccioso si immerge nell'acqua con forme scultore che suscitano incredibili sorprese Stiamo passando sotto l'arco di questa roccia, di questo scoglio che sembra un animale che si sta beverando nell'acqua Un altro elefante che beveva nell'acqua L'acqua riflette i raggi del sole creando uno scenario marino che sembra pulsare luce azzurra dal fondale Partiamo alla scoperta di quest'isola che Omero chiamava Fiore di Levante appellativo facile da ricordare perché fa proprio rima con Zante conosciuta anche come Zacinto Zakintos in greco Raggiungiamo la sua capitale che prende il nome dall'isola Vista dall'alto, la città si apre a mezzaluna sul suo porto sovrastata da montagne e colline coi sentieri inerpicati tra le alture verdeggianti Il panorama che domina la baia è impressionante e destinato a rimanere nei ricordi per sempre Qui le mura antiche e possenti preservano storie di vita devota e tutto appare delicato a ogni sguardo In quest'isola che ha fatto del mare turchese il suo vessillo è sorprendente passeggiare sulla riva di un fiume dalle acque smeraldo Continuiamo a salire lungo i monti nella parte interna di Zante lungo la direttrice mediana che taglia l'isola verso nord e raggiungiamo la località di Volimes famosa per i prodotti dell'artigianato locale che rendono il luogo un fervido punto di riferimento per gli acquisti di ceramiche tipiche autentiche e finemente lavorate In questo paese di montagna che con i suoi mili abitanti rappresenta il villaggio più grande a nord di Zante una tappa obbligata è il negozio Adamantia che espone infinite bancarelle di oggetti in terracotta coi colori simbolici dell'isola I proprietari mi riservano un'accoglienza molto calorosa e mi invitano a scoprire il loro mondo che preserva uno stretto rapporto con la natura e racconta le storie di oggetti della tradizione rurale Il richiamo all'atmosfera monastica mi sospinge verso il borgo storico di Anafunitria un piccolo villaggio di poco più di 200 abitanti situato a una trentina di chilometri dalla capitale e che deve il suo nome al monastero della Madonna Anafonitria Questo monumento storico del XV secolo è uno degli otto monasteri di Zante rimasti in piedi dopo il terremoto del 1953 ed è particolarmente caro agli abitanti perché qui San Dionisio, patrono dell'isola si rifugiò e trascorse gli ultimi anni della sua vita donando le sue rilevanti ricchezze ai poveri questo luogo trasuda storia da ogni pietra e rievoca il momento in cui il santo perdonò l'assassino di suo fratello dopo averlo confessato e lo protesse dalla cattura delle guardie e persino dall'ira della sua famiglia aiutandolo a fuggire da Zante Siamo lungo la strada che porta nell'entroterra di Zante in questa fattoria che si chiama Horse Riding Yannis ci sono questi splendidi cavalli bianchi meravigliosi come to me yeah i'm trying all these oils to keep away mosquitoes aloe vera oil I am choosing calendula una faccia, una razza touristy informations or just come in and meet the locals informazioni turistiche oppure entra e incontra gli abitanti del posto che ti guideranno alla scoperta di Zante non è possibile andare in qualsiasi posto e non riuscire a pagare nulla questo signore appena conosciuto ci ho offerto il caffè, l'acqua thank you so much for your wonderful coffee and for the beautiful people you are un momento grazie popolo di Zante ah ragallo this is San Marco Square in Zante questo mio viaggio a Zante è intriso di emozioni intense e profonde che in me si amplificano quando raggiungo la casa natale di Ugo Foscolo il poeta italiano di origini greche la cui opera è scolpita nell'Olimpo del neoclassicismo e del preromanticismo Foscolo nacque nel 1778 in questa dimora interamente ricostruita nel 2016 dopo essere stata completamente rasal suolo da un terremoto che colpì l'isola di Zante nel 1953 in questi ambienti oggi ricchi di quadri che ritraggono il poeta e di libri che ripercorrono la sua scrittura Foscolo visse da bambino fino al 1785 quando all'età di 7 anni si trasferì con tutta la famiglia a Spalato all'esterno della casa è posizionato il cenotafio di Foscolo su cui è scolpito un angelo piangente Foscolo fu animato da un fortissimo legame affettivo con la sua madrepatria dove non potè più far ritorno e a cui dedicò il sonetto endecasillabico a Zacinto Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque Zacinto mia che te specchi nell'onde del Grecomar da cui vergine nacque Venere La bellezza di Zante raggiunge la sua apoteosi quando si apre allo sguardo la spiaggia del Navaggio conosciuta anche come Spiaggia del Relitto situata nella costa nord-occidentale dell'isola Questa baia incassonata tra alte pareti rocciose e raggiungibile solo via mare è annoverata tra le spiagge più belle di tutta l'Europa ed è una delle spiagge più fotografate al mondo Questo relitto giace su questa spiaggia dall'ottobre del 1980 Il luogo deve la sua fama al relitto di un cargo utilizzato dai contrabandieri salpati dalle cosse turche con un carico di sigarette destinate alla vendita sul mercato nero Questo cargo fu inseguito dalla guardia costiera greca e l'equipaggio fu tallonato L'equipaggio decise di nascondersi in questa baia approfittando sia delle condizioni meteorologiche avverse che delle luci della notte Ma accade qualcosa di incredibile La mattina seguente la nave si era arenata in una secca di quel fondale e in breve tempo la risacca creata dal relitto accumulando materiale sabbioso creò una spiaggia bianchissima costituita da milioni di ciottoli sassolini e sabbia bianca Quando la barca si incagliò nelle acque di questa rada non c'era sabbia e il mare arrivava fino al limite fino alla scogliera A causa della permanenza di questa barca in queste acque la risacca creò improvvisamente sorprendentemente la spiaggetta Così la nave si posò sull'arenile creato Vivo questa scoperta come un segno di Poseidone Dio del mare che nella terra dei miti infiniti ferma il male e lo trasforma in un'altra meraviglia della natura La presenza di alcune sorgenti termali sulfure e il mare molto profondo già a pochi metri dalla riva conferiscono all'acqua un colore unico che spazia dall'azzurro chiaro al blu elettrico intenso Sulla rotta lungo la costa nord orientale di Zante si aprono le Blue Caves le grotte blu sono una delle attrazioni naturalistiche più famose dell'isola e consistono in particolari formazioni geologiche che hanno generato una costellazione di grotte marine con un mare talmente turchese da essere considerate fra le meraviglie naturali più belle di tutta la Grecia è davvero impressionante osservare la trasparenza dell'acqua e questi fasci di blu elettrico che sono esaltati dalla penetrazione dei raggi solari all'interno dell'oscurità della grotta e danno proprio l'idea della fluorescenza di queste acque sul porto di Zante si affaccia questa bellissima taverna di cucina marinara greca si chiama Comis e la caratteristica sono queste balconate sul mare e tanti premi che ha ricevuto negli anni e in quest'isola succedono cose pazzesche cose strane si inanellano una serie di incontri di eventi tipo trovarsi proprio a cena ospiti del proprietario che si chiama Yannis di questo ristorante che risulta essere il più prestigioso il più importante qui a Zante la triglia sfilettata di Comis resterà tra i miei piatti preferiti per sempre sulla costa sud-ovest di Zante vado a scoprire l'Imnionas un fiordo nascosto e selvaggio incastonato nel frastaglio della roccia bianca puntellata dal verde questa insenatura è una meta obbligata di ogni viaggio alla scoperta di Zante l'impatto col paesaggio è mozzafiato qui il mare mi sembra un sentiero smeraldo verso il bello del mondo raggiungo la balconata su un paesaggio marino placido e immenso solcato dalle scie spumose delle barche e in questo luogo distensivo mi siedo ad aspettare il momento più intenso quando il sole sprofonda nel mare e la luna sorge dalle brulle scogliere questo viaggio a Zante è ricco dei sapori tipici della Grecia e ogni sera a tavola sfilano spiedini di carne chiamati sublaki fritture di calamari alici marinate con verdure e peperoncino e l'immancabile greco salade con questa tipica cese feta feta l'uso accompagna le cene col profumo di anice tra dolce e lenici voluttuosi marcos le serate pulsano di musica tipica e il suono del busuki mi contagia col ritmo felice del folklore greco siamo arrivati a Damiano's Cave o Damiano's Restaurant una delle tappe fondamentali da vivere a Zante sia per l'esperienza gastronomica che per quella paesaggistica perché da questo punto dell'isola si ammira il tramonto più bello sull'isola di Zante siamo in uno dei punti più alti di Zante situato a sud-ovest e per vivere i tramonti più belli dell'isola si percorre un sentiero verso l'alto che si dirama in salotti di pietra immersi tra pieni millenari dai terrazzi di legno si raggiunge il panorama sul Mar Ionio il sole scende nel mare con Eolo a soffiare nuvole bianche nel cielo dipinto d'arancio è davvero emozionante l'accoglienza lo spirito di collaborazione con cui sono stata accolta in questo mio viaggio di esplorazione a Zante la generosità la voglia di trasfondere in una persona come me che viaggia che sta scoprendo quest'isola tutto il meglio che quest'isola possa offrire grazie a Zante grazie popolo di Zante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti